Comprare una pack su Aruba è semplice e lo fai direttamente online. Su www.aruba.it puoi dare un'occhiata alla nostra offerta e scegliere la casella più adatta per le tue necessità. Clicca sul pulsante di acquisto e scegli quante caselle vuoi attivare, quindi prosegui. A questo punto dovrai indicarci il nome che vuoi attribuire alla tua casella e la password, avendo cura di inserire una password composta da numeri e lettere di almeno 8 caratteri. Dovrai quindi verificare che i dati del titolare del servizio siano corretti, quindi scegliere la durata del servizio, la modalità di pagamento del tuo ordine e prendere visione delle condizioni contrattuali che comunque ti verranno inviate anche in fase di conferma. Naturalmente ti consiglio di pagare il tuo ordine con carta di credito o PayPal. In questo modo l'evasione sarà immediata e la tua pack sarà attiva e utilizzabile in meno di mezz'ora. Dal momento in cui riceverai da Aruba le mail di attivazione, potrai subito iniziare a usare la tua casella. Nelle mail ti forniremo tutte le informazioni necessarie per inviare subito il tuo primo messaggio certificato. Semplice, no? Adesso che sai come utilizzare la pack, per maggiori dettagli vai su aruba.it Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.